Io credo che oggi si può partire tranquillamente con le scuole, quindi ognuno può fare le proteste che ritiene, per carità, le rivendicazioni sindacali, le rivendicazioni politiche. La piazza è a loro disposizione anche fino a Natale. Poi ci sono per me la comunità scolastica, i bambini, le famiglie. Non si potrà trovare nessun luogo perfetto. Nemmeno adesso dove stiamo entrando, nemmeno le redazioni dei giornali dove lavorate voi, nemmeno le questure, nemmeno le prefetture, nemmeno Palazzo Chigi. Quindi o comprendiamo che viviamo un momento storico in cui bisogna essere uniti, tutelare la salute, ma non lasciare da parte altri diritti che sono stati fortemente mortificati. Poi il resto lo comprendiamo tutti, ma per me viene prima la salute, vengono prima i diritti, vengono prima le maestre, vengono prima i ragazzi, i bambini, la necessità che la scuola riparte. Io credo che adesso la protesta oggi, la protesta domani, ognuno faccia quello che ritiene. Noi siamo proiettati per che si vada a scuola e che lo si faccia con uno spirito di responsabilità, di unione, di coraggio, di condivisione. Sono fondamentali il ruolo dei sindacati, fondamentali il ruolo dei partiti, fondamentali il ruolo della politica, ma io credo che in questo momento dobbiamo mettere davanti quello che è il baluardo di una democrazia. Le scuole, oggi le scuole dovevano riaprire, quindi la mia opinione è che non c'era alcuna ragione per fare un'assemblea di questo tipo. C'erano le ragioni per fare tavoli permanenti, tavoli continui, cominciare, vedere le cose che vanno e consolidarle, le cose che non vanno e migliorarle, ma cominciare in questo modo, sinceramente, come qualcuno ha cominciato l'autunno mettendo in campo attività di un certo tipo in altri comparti dei servizi pubblici della nostra città, noi le comprendiamo queste dinamiche, comprendiamo che stanotte hanno rubato tre autocarri che ci servivano per raccogliere sfalci e verde e guarda caso le hanno rubati oggi, così come comprendiamo alcune cose che si guastano all'improvviso nella nostra città, comprendiamo che evidentemente è cominciata la campagna elettorale. Noi pensiamo invece alla scuola, pensiamo alla salute, pensiamo ai diritti e pensiamo a combattere come ci hanno insegnato i partigiani del 1943. Rispetto per tutti, ma noi andiamo avanti.